Il meteo della scorsa settimana non è stato clemente, dunque non abbiamo potuto ammirare la superluna della settimana scorsa, la superluna piena, allora ne parliamo quest'oggi con Walter Riva, direttore dell'osservatorio astronomico del Righi. Bentornato! Buongiorno Eva, grazie per l'ospitalità. Ma ahimè mi sa che le previsioni meteo da qui a 7-10 giorni, quando sarà ancora visibile, non sono buone. Ormai non è una cometa che è visibile a occhio nudo, ormai almeno non dalla città, lo poteva essere il 12-13 ottobre, però il meteo qui in Liguria ci ha fatto un brutto scherzo questa volta. È vero, è proprio così. Allora, superluna e comete, così come recita il nostro titolo, il cielo di ottobre, che stella possiamo ammirare se ci fossero ancora serate a cielo terzo? Intanto vediamo le vostre foto. Allora, appunto, la cosa più curiosa e la novità è questa cometa che si chiama Atlas, ha anche un nome cinese che vi tralascio perché è troppo complicato da pronunciare. E poi ci sono Giove e Saturno che si stanno rendendo visibili. Saturno già da un po', in particolare Giove, invece, sarà il protagonista poi delle prossime notti dell'autunno e magari ne riparleremo insieme. Invito tutti i telespettatori a tenere d'occhio il sito dell'osservatorio del Righi, www.osservatoriorighi.it, perché se riusciremo a fare un'apertura pubblica sarà un last minute proprio, insomma, se il meteo ce lo permetterà. Intanto stiamo vedendo altre immagini, grazie alla regia anche dell'aurora boreale che abbiamo ammirato nelle scorse settimane. Io la devo salutare, direttore, ma con la promessa di risentirci il prossimo mese per la prossima superluna e per parlare dei cieli, dei bellissimi cieli autunnali e invernali. Speriamo che il meteo ci assista, grazie. Speriamo davvero, grazie a Walter Riva, direttore dell'osservatorio astronomico del Righi. Buona giornata.